Premio nazionale Paolo Borsellino la sua 31esima edizione. La premiazione si terrà il 28 ottobre 2023 all'Aquila per la prima volta per presentarlo oltre al sindaco Biondi il vice capo vicario della polizia di stato e presidente del premio, il prefetto Vittorio Rizzi che all'Aquila ha lasciato bellissimi ricordi come questore e il prefetto Luigi Savina già vice capo vicario della polizia di stato e presidente del premio. Il premio vedrà tante iniziative da novembre 2023 a maggio 2024 tra l'Aquila, Teramo e Pescara. Tantissime davvero le iniziative e soprattutto si faranno molte cose nelle scuole come sempre. Agli incontri quest'anno per le scuole abruzzesi si uniscono anche 15 spettacoli che gireranno nelle scuole come sempre a titolo completamente gratuito grazie alla legge che il consiglio regionale ha approvato all'unanimità e oltre ai tradizionali incontri di presentazione dei libri con i procuratori, ad esempio il procuratore De Lucia qui all'Aquila e a Pescara ma anche il procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella e tanti altri incontri che verranno presentati dal prefetto Rizzi. In più quest'anno ci saranno anche dei momenti di approfondimento e tutti gli incontri saranno streaming live. Tra i premiati di quest'anno magistrati e rappresentanti delle forze dell'ordine, avvocati, uomini di chiesa, scrittori, attori e giornalisti, l'iniziativa è organizzata dal comune dell'Aquila con la collaborazione dell'Associazione Società Civile e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il premio nazionale Paolo Borsellino è stato conferito a persone che grazie al loro impegno nei diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente al contrasto della criminalità, della violenza, dello spaccio di sostanze stupefacenti. È un'iniziativa che ha origini lontane, ha origini dal giorno della strage e che vuole ricordare, non solo ricordare la memoria di Paolo Borsellino, ma vuole anche premiare tutte quelle iniziative che nel mondo della sociale, nel mondo della cultura, nel mondo delle forze di polizia continuano a essere le gambe su cui le azioni, l'impegno di uomini come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone si sono spesi con il sacrificio delle loro vite. È stato fatto un grande lavoro, è stato fatto soprattutto da tanti docenti, da tanti ragazzi che su base volontaria si sono incontrati con le scuole, hanno creato appuntamenti, occasioni per far conoscere magistrati, giornalisti, testimoni di giustizia portando nelle scuole, puntando sull'educazione delle nuove generazioni. Un lavoro enorme, tanto che il premio Borsellino ha ricevuto diversi premi, da Aerojust a premi europei, da ultimo una struttura che si chiama Officina Legalità che è nata durante la pandemia.